È una sanità che sogna ma anche una sanità che soffre, quella della campagna. Una sanità insomma a due facce, quella che anche il presidente della regione campagna Vincenzo De Luca racconta intervenendo alla presentazione della ricerca medica sulle oncoterapie. 120 milioni di euro investiti nella ricerca che punta a fare della campagna la regione che realizzerà il primo vaccino contro i tumori in un territorio però che come ha evidenziato lo stesso governatore deve fare conti in questo momento con due problematiche, lo stop alla prevenzione e l'attesa anche per gli interventi urgenti per i quali De Luca ha annunciato un'inchiesta. Sono stati prodotti risultati importanti, abbiamo già avuto l'individuazione di geni e di farmaci che impediscono la moltiplicazione di cellule tumorali. Adesso dobbiamo passare alla sperimentazione clinica, cioè dobbiamo progressivamente arrivare a sperimentare sugli esseri umani questi dati di ricerca a cui siamo arrivati. Ma l'obiettivo rimane quello di produrre in Campania il vaccino contro il cancro. È un obiettivo ambizioso. Intendiamo rifare un grande investimento nella ricerca perché vogliamo arrivare assolutamente a questo risultato. Credo che abbiamo tutte le competenze mediche, scientifiche per arrivare davvero a produrre qualcosa che sarebbe davvero un risultato straordinario per l'umanità. Intanto lei ricordava anche però la doppia faccia di questa sanità campana facendo riferimento ai problemi che ancora si registrano. Nonostante l'attivazione del CUP ci sarà un'indagine per capire quali sono i reali tempi di prenotazione sulle visite urgenti che ancora subiscono dei rallentamenti nonostante il sistema di prenotazione all'anno. Ho sottolineato due problemi che dobbiamo affrontare con grande determinazione. Noi abbiamo alle spalle due anni di Covid che hanno determinato un rallentamento dell'attività in alcuni campi. Gli screening oncologici si sono quasi fermati. Noi dobbiamo riprendere con estrema determinazione lo screening oncologico per quanto riguarda in modo particolare i tumori al seno, alla cervice dell'utero, al colon retto. E faccio appello, mi prego di rilanciarlo anche voi l'appello, soprattutto alle donne, alle giovani donne, perché si facciano prendere in carico dalle ASL e avvino lo screening programmato per i tumori al seno. A volte basta un po' di attenzione per evitare poi problemi seri se si interviene per tempo. Poi dobbiamo registrare i tempi di prenotazione per le indagini di laboratorio. Noi abbiamo realizzato una piattaforma, un centro unico di prenotazione regionale, proprio per mettere in condizione il cittadino di sapere dove c'è un posto libero per andare a fare un'indagine. Sapete che le prestazioni di laboratorio sono classificate come urgenti, come programmabili e quant'altro. Le prestazioni urgenti devono essere erogate nel giro di pochi giorni. Mi viene detto che in tante realtà non è così che ancora i tempi di prenotazione per le prestazioni classificate, ripeto, come urgenti, quelle programmabili si possono fare dopo un mese, due mesi, ma quelle urgenti vanno erogate nel giro di pochissimi giorni. Ed il presidente della regione Campania ha intervenuto anche sull'emergenza Barrelle alla Cardarelli. Che sta accadendo al Cardarelli è esattamente quello che sta succedendo in tutta Italia, né più né meno. Hanno tentato di fare una speculazione, ma dopo 24 ore si è capito che in realtà questo problema riguardava il Cardarelli, ma riguardava Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna. La verità è che abbiamo un ministero della salute che continua a dormire in piedi, perché non ci sono medici per i pronto soccorsi e la Campania ha una sofferenza in più, perché è la regione che ha il deficit più alto di medici per l'emergenza, ce ne mancano 800. Problemi nazionali, carenza di medici, problemi che riguardano i medici dell'emergenza e anche cattive abitudini. Nel pronto soccorso si va per problemi seri, non per il taglio al dito quando si sta a fare qualche lavoro in cucina.